freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance allora direi che adesso iniziamo veramente sono molto felice di essere qui con persone che conosco da anni e anche con tante persone nuove ieri mentre preparavamo i cartellini io ero quella che scrive i nomi sui cartellini e ho visto un sacco di nomi che non conoscevo chi sono questi sono molto curiosa di conoscere i nuovi arrivati le nuove arrivate questa è un'edizione molto particolare del freelance camp un po perché vabbè lo sapete avremmo dovuto farla a maggio e invece per a causa dell'alluvione l'abbiamo dovuta rimandare ma da un certo punto di vista questo si è in qualche modo incastrato bene con quello che è uno snodo importante della storia del progetto perché freelance camp è diventata sta diventando un'associazione il progetto freelance camp è nato nel 2012 come iniziativa totalmente spontanea da un'idea mia di gianluca diegoli e di miriam bertoli gianluca arriverà stasera miriam sarebbe dovuta essere qui con noi oggi ma ha avuto troppo un inconveniente familiare che la costretta a restare a casa e vi saluta tutti e tutte ed è molto triste di non poter essere qui con noi era dice un'iniziativa completamente spontanea noi avevamo tutti e tre da poco iniziato a lavorare aperto la partita iva dopo avere lavorato chi in agenzia chi in azienda e ci interrogavamo sulle gioie e dolori della vita da lavoratori e lavoratrici autonome e ragionavamo ci davamo consigli reciprocamente su come gestire le varie situazioni che ci trovavamo di fronte avevamo tutti e tre un po di gente che ci seguiva leggeva i nostri blog parlava con noi sui social e quindi abbiamo pensato di chiamarli a raccolta e di ragionare insieme ed è quella è stata la prima edizione del freelance camp eravamo una cinquantina di persone l'anno dopo eravamo raddoppiati l'anno dopo eravamo raddoppiati ancora a quel punto il progetto è diventato qualcosa di un pochino più grosso abbiamo dato che per gestire comunque un evento di quel tipo di quella dimensione che si è subito portato dietro anche una raccolta di contenuti una raccolta di interviste di storie ci voleva un po di lavoro abbiamo cominciato a vedere se c'erano delle aziende interessate a sponsorizzare e supportare il progetto ne abbiamo trovate abbastanza negli anni non flussi di denaro colossali ma diciamo quello che bastava per in qualche modo coprire i costi di quel lavoro organizzativo che ha sempre implicato via via di più negli anni portare avanti una comunità di questo tipo a un certo punto la gestione di tutto il progetto è passata digital update perché comunque era comodo era funzionale avere diciamo una un soggetto ben definito che gestisse tutto tutto l'ambaradan che riguarda creare un evento che alla fine non era neanche più solo annuale perché abbiamo fatto delle edizioni a roma delle edizioni a lecce e avevamo in programma di fare edizioni locali di ogni tipo poi è arrivato il covid e quindi è arrivato il covid e abbiamo portato tutto online tutto online per quasi un anno la la primissima edizione in presenza post covid è stata a settembre del 2020 qui ed è stata la prima edizione in campeggio una formula che è stata è nata grazie a un'idea felicissima di silvia e la dimensione del campeggio ci è sembrata perfetta perfetta perché ci permetteva oltre che di avere degli spazi meno compressi di quelli del bocca chi di voi è stato al bocca si ricorda 200 persone infilate in uno spazio tipo quello del bar praticamente seduti uno sopra l'altro a parlare ascoltare i talk e invece qui siamo tutti più rilassati abbiamo c'è spazio siamo nel verde eccetera ma soprattutto la cosa meravigliosa del farli in campeggio è che buona parte di noi e poi vive in campeggio in questi due tre giorni quindi non ci sono solamente i momenti dell'evento ma ci sono anche il pre il post dove è molto più semplice stare insieme tutto bellissimo e quindi il progetto è ripartito magari con numeri durante gli eventi meno meno importanti di quelli precovi però nel frattempo con una continuità molto più frequente il club gli zoom club il trovarsi una volta al mese non necessariamente tutti e tutte insieme però per portare avanti tutta quella auto formazione e discussione e confronto ma anche reti perché in realtà il valore grande di questo progetto è stato sì nelle cose nei talk che abbiamo ascoltato che abbiamo con delle esperienze che abbiamo condiviso nelle discussioni che ne sono nate ma soprattutto nella ricchissima rete di relazioni che si sono create questo fare rete questo costruire e far evolvere continuamente le reti fra di noi ha generato progetti di lavoro progetti di vita amicizie alcune coppie perché no e questo è veramente una delle cose di cui io sono più felice e tante persone in questi anni mi hanno detto l'hanno detto a me perché in qualche modo mi identificano come una delle diciamo dei fulcri del progetto ma mi hanno raccontato come fare parte del freelance camp ha significato tanto per decidere per prendere delle decisioni per fare delle svolte di vita per crescere e questo io ho sempre detto che questo è uno dei progetti se avessi fatto solamente il freelance camp sarei comunque felice poi ho fatto anche delle altre cose ma questo è veramente un progetto di cui sono fiera l'ho fatto insieme a tante altre persone ma insomma so che abbiamo costruito qualcosa di importante un'altra cosa che ci tengo a dire e che trovo sia molto importante è che il freelance camp non è il posto dove diamo delle soluzioni perché non c'è mai una soluzione non c'è mai il modo di fare le cose inteso come unico modo ci sono tante possibilità e le abbiamo messe sul tavolo insieme continuiamo a farlo e questo comporta anche che ci sono tante persone che magari in passato sono venute al freelance camp hanno portato dei contenuti e dei contributi bellissimi e adesso non hanno più tempo di farlo semplicemente la loro vita è cambiata il freelance camp non è più il posto dove decidono di dedicare del tempo e delle energie e questo va benissimo io non sono non è che me la prendo se qualcuno che magari è venuto a tante decisioni del freelance camp adesso non viene più non ha più voglia eccetera perché secondo me è del tutto naturale le nostre vite cambiano si evolvono e così come per alcuni si sono alternate le stagioni del lavoro da freelance le stagioni del lavoro da dipendente allo stesso modo per qualcuno il freelance camp può essere stato una stagione e adesso ci sono delle altre cose delle altre esperienze ciascuno di noi fa un bilancio e ne parlerò io mi sono prenotata per fare un talk sulle su come nutrire e far vivere una rete è una cosa molto importante che poi ripeterò anche domani è che quando noi decidiamo di far parte di un network più o meno consapevolmente facciamo sempre un bilancio fra quello che riceviamo da questo network e quello che siamo disposti a dare perché il network non è una roba che cioè non è il pranzo gratis perché funzioni ciascuno di quelli che ne fanno parte deve metterci dentro qualcosa non necessariamente questo qualcosa è uguale per tutti ciascuno decide che contributo dare però se diminuiscono quelli che danno e restano solo pochi che ricevono a un certo punto il network si sgretola perché non viene più nutrito dai suoi partecipanti però se funziona diciamo non c'è una eguaglianza fra quello che diamo al network collettivamente e quello che ne riceviamo perché la rete funge da moltiplicatore quindi alla fine la ricchezza che viene generata e distribuita alle persone che ne fanno parte è molto di più della somma dei singoli contributi e questo mi porta a quella che è per il momento l'ultima tappa di questa storia quest'anno digital update come società cessa la sua attività per tutta una serie di motivi è stato anche questo un progetto molto ricco molto bello che ha messo in rete un sacco di persone però nella storia mia e di gianluca adesso abbiamo altre cose da fare la formazione è diventato un mercato molto competitivo e molto difficile in cui stare e noi non abbiamo più l'energia e la voglia di tenerci dentro questa srl fra le altre cose il freelance camp restava un orfano di qualcuno che lo portasse avanti di qualcosa che lo portasse avanti per cui un anno fa quando abbiamo iniziato a ragionare su questa chiusura della digital update una delle domande che ci siamo fatti insieme alle altre persone che partecipate al progetto è stato se continuare a portare avanti il freelance camp perché non bisogna mai dare niente per scontato e come farlo come poterlo fare e visto che sul se ci sembrava che comunque la risposta collettiva la richiesta collettiva la domanda collettiva continuasse ad esserci e non volevamo farlo esaurire la evoluzione più naturale e più giusta ci è sembrata quella di fondare un'associazione un'associazione una ps un'associazione di promozione sociale un'associazione senza fini commerciali quindi che farà attività solamente per chi ne fa parte dato che non vogliamo complicarci la vita e zero sbatti è uno dei mantra di questi ultimi tempi e perlomeno finché dobbiamo essere un po noi quelli che fino adesso l'hanno portata avanti organizzativamente non vogliamo complicarci con la gestione di un bilancio di associazioni che come le commercialiste presenti in sala ci possono confermare è sempre una cosa abbastanza spinosa e complicata abbiamo deciso di portare avanti il freelance camp come associazione che non farà nessun tipo di attività commerciale per chi non è socio e ma neanche verso i soci nel senso che non venderemo magliette o gadget faremo dei freelance camp per le persone che stanno nell'associazione quindi quella che è stata in questi ultimi tre anni il freelance club in presenza riservato solo ai soci del club cioè quello che avremmo dovuto fare a maggio e facciamo adesso sarà lo standard chi c'è viene chi vuole venire si associa e la quota associativa sarà veramente una quota ridotta e simbolica quando avevamo creato il freelance club tre anni fa avevamo detto chi si iscrive il primo anno paga 60 euro l'anno che sono 5 euro al mese e quindi abbiamo gli altri poi hanno molti di voi hanno fatto delle quote da 99 euro gli anni successivi chi si è iscritto negli ultimissimi mesi non ha pagato 99 euro ha pagato 39 euro perché voglio dire la tessera associativa di quest'anno finisce a settembre sarebbe dovuta finire ad agosto ma vista la proroga di questo evento qui l'abbiamo allungata di un mese quindi abbiamo detto benissimo essere soci per un anno costerà 60 euro e darà la possibilità di partecipare di contribuire poi ragioneremo insieme anche in questi giorni sul come non necessariamente dovrà essere un impegno super attivo super impegnativo ma sicuramente ci dovrà essere chi ci mette delle energie del sapere del tempo e però insomma ci troveremo fra chi è dentro l'associazione sia fisicamente qui o in altri luoghi anzi saremmo molto felici quando vedremo nascere delle iniziative in giro come è stato ad esempio l'anno scorso il freelance camp prato ne vogliamo fare ne volete far nascere in toscana in veneto a milano whatever noi siamo molto felici e verremo a partecipare verremo a trovarvi tanto poi dove abitare faremo home exchange e quindi troveremo modo di sistemarci comunque e quindi appunto questa era la notizia che avremmo dato le cose di cui avremmo parlato a maggio a fine maggio le abbiamo anticipate quando abbiamo fatto l'evento online in cui abbiamo raccontato dell'alluvione in questa edizione in presenza del freelance camp club oltre a parlare di cose che riguardano la vita dei freelance anche oggi ci sono ho visto segnati nella bacchecone degli interventi molto belli però parleremo anche appunto di cosa e come vogliamo fare andare avanti l'associazione per chi vorrà continuare a esserci quindi le quote saranno annuali per anno solare quindi la prima tessera sarà diciamo virtualmente quella del 2024 ma visto che apriremo le iscrizioni le associazioni adesso chiaramente la tessera che si fa adesso varrà per tutto il 2024 e noi speriamo che appunto il progetto possa continuare ad andare avanti io penso che questo succederà perché comunque non solo i temi ma anche il modo in cui li abbiamo discusso insieme in cui li abbiamo portati avanti mi sembra che possa continuare a funzionare e comunque evolverà nel tempo come è stato più o meno per tutte le cose che abbiamo fatto continueremo a fare anche gli zoom club ci sembra che abbiano funzionato bene in questi anni magari non riusciremo proprio a farne 12 all'anno perché insomma diciamo che partiamo come si dice under promise over deliver quindi diamoci degli obiettivi sostenibili perché dovranno essere sostenuti come quelli di ogni associazione dell'attività volontaria le quote associative serviranno per pagare quello che è la gestione la manutenzione per pagare il sito l'account zoom su cui poterci trovare in tanti per un paio d'ore l'hosting la pec un po di gestione di contabilità e amministrazione che per quanto sia ci deve essere diciamo il conto bancario per ricevere e gestire i soldi una cifra annuale di spese fisse che per portare avanti un'associazione anche che non faccia attività commerciale bisogna che venga spesa e a questo serviranno le quote associative oltre che per finanziare quello che non servirà per pagare proprio le spese correnti decideremo insieme come spenderlo potrebbe essere ad esempio scegliere degli speaker che ci portano un valore particolare e dargli un gettone per imparare insieme a loro potrebbe essere boh vedremo appunto solo hanno scelte che faremo che faremo insieme un pochino più nel dettaglio magari ci andremo più avanti nel corso di queste due giornate e io però adesso darei il via ai talk di questa mattina grazie a tutti